visto che quel furbone di fulvio ha sbagliato a registrare quindi c'è solamente la mia parte questo è l'episodio di recap low budget di pokemon cristallo a ciao e praticamente dopo aver affrontato alfredo camone che si è ritirato nel vgc nuovamente dove ha aperto i culi a tutti ci siamo diretti verso fiordoropoli perchè boh c'era il team rocket che non ci faceva passare e siamo entrati nella torre radio e un tipo rocket ci ha fermato e ci ha detto eh ma voi ci volete fermare e noi abbiamo detto no vogliamo solo perseguire nel gioco e allora ci ha lasciato passare siamo andati nella stanza del direttore però non c'era il direttore ma scherzone c'era un rocket e praticamente ci ha sfidato per fermarci ma l'abbiamo sconfitto e poi ci ha detto eh il direttore è nello scantinato allora siamo andati nello scantinato dal vero direttore che ci ha dato una chiave per la sua stanza allora siamo andati a aprire la stanza con la chiave che ci ha dato per aprire la sua stanza no e praticamente c'era del capo rocket che ci fa e voglio che giovanni torni a essere il capo ma noi abbiamo detto no guarda che fare male è sbagliato allora si è reso e abbiamo sbloccato la strada per andare a debanopoli poi tipo Flavio è morto assiderato nella via gelata però però poi è tornato in vita e poi siamo andati ad affrontare Sandra e praticamente ci fa io sono la più forte allenatrice di tipo drago e tengo testa i super 4 noi le abbiamo detto di darci almeno una prova le cavolo si è depressa perché non le aveva ha cialato la medaglia e adesso praticamente dobbiamo andare a catturare sui cagna spero che il video vi sia piaciuto allora iscrivetevi e mettete anche un dislike perché questo video fa veramente schifo ciao ciao